Rhinomite ha calcolato male il lancio e ha mandato il suo compagno fuori pista Questo significa che Demo Derby e Meganex hanno la possibilità di vincere Beh, davvero assurdo Chi lo sapeva che un piano perfetto contenesse errori, eh? Amico, aspetta! Forse il nuovo piano dovrebbe essere ascoltare di più Demo Derby! Tiger Shark! Meganex, devo dirvi assolutamente una cosa sulla sfida Potrebbe essere il consiglio più importante che posso darvi Di che si tratta? Qualunque cosa facciate, non dovete cadere in acqua Grazie, Tiger Shark Non pensavamo di farlo Quegli squali sembrano affamati